Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Non sia turbato il vostro cuore Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore Se no, vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto Verrò di nuovo e vi prenderò con me Perché dove sono io siate anche voi E nel luogo dove io vado conoscete la via Gli disse Tommaso Signore, non sappiamo dove vai Come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù Io sono la via, la verità e la vita Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me Se avete conosciuto me Conoscerete anche il Padre mio Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto Gli disse Filippo Signore, mostraci il Padre e ci basta Gli rispose Gesù Da tanto tempo sono con voi E tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre? E il Padre in me? Le parole che io vi dico Non le dico da me stesso Ma il Padre che rimane in me Compie le sue opere Credete a me Io sono nel Padre E il Padre è in me Se non altro Credetelo per le opere stesse In verità, in verità Io vi dico Chi crede in me Anche egli compirà le opere Che io compio E ne compirà di più grandi di queste Perché io vado al Padre Parola del Signore In queste domeniche del tempo pasquale La liturgia ci propone I discorsi di Gesù Una parte evidentemente Dei discorsi di Gesù Nell'ultima cena Sono discorsi carichi di affetto Di confidenza Sono le ultime parole di Gesù Prima di morire Quindi quando si dicono le cose Importanti E il brano di questa domenica Ci riporta Promesse di Gesù E domande dei discepoli Ci sono due domande Quella di Tommaso Signore non sappiamo dove vai Come possiamo conoscere la via E poi c'è la richiesta di Filippo Signore mostraci il Padre E ci basta Due richieste che fanno capire Che gli Apostoli Non avevano molto compreso Tutto l'identità E il cammino di Gesù Come spesso noi Non comprendiamo Il suo mistero Ma le parole di Gesù Sono bellissime Le sue promesse Sono meravigliose Primo perché dice Che ci va a preparare un posto Io vado a prepararvi un posto Perché nella casa del Padre mio Vi sono molte dimore Molti posti C'è un posto per ciascuno di noi Nella casa del Padre E Gesù ce lo va a preparare È andato a prepararcelo Ma come possiamo arrivare là Non sappiamo Come dice Tommaso La strada Dice Gesù Io sono la strada Io sono la via La verità E la vita Ecco Gesù non solo Come dire È la meta Ma è anche la strada È la strada Nella sua umanità Facendosi uomo Dice Sant'Agostino Gesù si è fatto la via La sua umanità La sua persona È diventata La via Per arrivare al Padre Infatti dopo dirà A Filippo Mostraci Che gli aveva Ha chiesto Mostraci il Padre Ci basta Chi ha visto me Dice a Filippo Ha visto il Padre Nella sua umanità Gesù ci rivela Dio Nel suo modo di essere uomo Nelle sue parole Nei suoi gesti Nel suo modo di comportarsi Nella sua vita Nella sua morte Nella sua risurrezione Nel suo straordinario modo Di essere uomo Come dice Un famoso teologo Ciò che di straordinario C'è in Cristo Non è la sua divinità È la sua umanità Il modo bellissimo Di essere Uomo Una persona umana Lì ci ha rivelato Dio Quindi l'umano È il modo Con cui noi incontriamo Il Signore Non lo incontriamo In esperienze Straordinarie Fuori così Dalla Dalla nostra portata Lo incontriamo Nella vita quotidiana Lo incontriamo Tutte le volte Che cerchiamo Il volto di Gesù Che cerchiamo La sua presenza Nella nostra storia Nella nostra vita Lui È con noi Lui cammina Con noi Lui è la via Che ci porta al Padre E siamo sicuri Perché ci sono molti posti C'è un posto anche per me Chiediamo al Signore Di aiutarci A camminare Con Lui E su di Lui Che è la via Per arrivare Nel posto che il Padre Ci ha preparato Attraverso Gesù Perché Finisce così Il Vangelo Chi crede in me Compirà Le opere Che io compio E ne farà Di più grandi Faremo cose più grandi Addirittura Di Gesù Se avremo Fede in Lui Il dono della fede È sempre Alla base Di ogni cammino Il Signore Aumenti La nostra fede I 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 Grazie a tutti.